Ups, a tutti ragazzi e ragazze, come state? Oggi sono qui solo per voi, per il trigger numero 10 del calendario dell'avvento. Dai che siamo già al 10, wow! E cosa ho scelto per oggi? Per saperlo indossate un paio di cuffie auricolari, stendetevi sul vostro letto e chiudete gli occhi, va bene? Intanto io comincio e come trigger ho scelto questa spazzola qui, quindi senza perderci in chiacchiere cominciamo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.